Il primo marzo è morto Alberto Alberti, un personaggio di grande spicco del mondo della scuola per più di mezzo secolo. Era nato nel 1933 in un piccolo paese della Sicilia, poi aveva iniziato come maestro elementare negli anni 50, poi diventò direttore didattico, successivamente anche ispettore tecnico. È stato un uomo molto appassionato di studio, di ricerca ha prodotto una quantità enorme di articoli, saggi, libri, aveva collaborato molto con la rivista Riforma della Scuola, era stato molto attivo nel movimento di cooperazione educativa e ha continuato a lavorare e a scrivere fino a non molto tempo fa. Le sue ultime pubblicazioni sono nel catalogo delle edizioni Anicia presso il quale sono usciti addirittura anche dei volumi di suoi racconti, quindi a testimonianza questo dei suoi molteplici interessi professionali ma anche culturali in senso più ampio. E di Alberto Alberti vogliamo parlare con alcune persone che in un modo o nell'altro lo hanno incrociato nella loro vita professionale. Parliamo con Cinzia Mion che lo aveva conosciuto quando eravate entrambi giovani maestri. Come vi siete conosciuti con Alberto Alberti, Cinzia? Allora ci siamo conosciuti nel 1967 ad un corso di linguistica organizzato sempre dal movimento di cooperazione educativa durante le condirete scuole estive verso la fine di agosto. Ho trovato, dopo vi dico come anche, ho trovato le date precise. Questo corso era tenuto da Tullio De Mauro a Montebelluna, provincia di Treviso. In quel corso c'era anche lui, altri insegnanti da tutte le parti d'Italia e anche lui dalla Sicilia. Ed è stato un incontro molto particolare, non solo per quello che è successo all'interno della formazione con Tullio De Mauro, ma anche come siamo riusciti a diventare amici con lui ed altri. Alberto era un ragazzo molto scansionato, cosa che per esempio non ho verificato successivamente quando ho provato a rimettermi in contatto con lui. La cosa che mi ha colpito di più di lui è stato non solo il fatto che durante questo corso di formazione ci siamo naturalmente confrontati con quelli che erano gli ideali in quel momento del movimento di cooperazione educativa. Volevamo cambiare la scuola, addirittura secondo me volevamo cambiare il mondo, la società, illusi. E questo ci accomunava, tutto il gruppo, ma lui in particolare sentivo che ci metteva un grande slancio, un grande entusiasmo. Senti Cinzia, in quella occasione diventaste amici e lui ti fece anche un piccolo regalo. Cosa ti regalò? Raccontaci. Mi regalò questo librino di poesie, L'Ombra Felice, un librino di poesie che ho guardato adesso, era della libreria Scallisi del 1963 di Messina. E dentro, non lo ricordavo questo, e dentro a questo librino di poesie, ho trovato si vede? Sì, qualcosa si vede. Questo foglio, ho scritto Movimento di Cooperazione Educativa, Corso Lingua e Grammatica, Montebelluna, 27-31 agosto 1967 e di suo pugno altre poesie che non erano già stampate. E quando mi ha regalato questo librino, quasi con pudore, ha detto, guarda che è stato un peccato di giovedì. Come per dire, è una cosa che ti regalo, ma sappi che è una strada che non cercherò di percorrere più. La cosa mi ha veramente colpito, insieme a tutte le considerazioni che sono emerse durante questo corso. Ecco, questo proprio a testimonianza di questi variegati interessi culturali che lui aveva. Invece, Mario, tu lo conoscesti, se non ho capito male, alla fine degli anni 90, quindi in un contesto completamente diverso. A quell'epoca sia tu che lui eravate ispettori tecnici, anzi forse stavate diventando dirigenti tecnici. Ecco, in quale circostanza, in quale contesto, ecco, più che altro vi siete incontrati? Sì, in realtà, vabbè, io lo conoscevo di fama, ovviamente, Alberto Alberto, perché ero abbonato già da insegnante a riforma della scuola e lui era uno di quelli che scrivevano più spesso, credo che poi l'abbia anche diretta addirittura e in più poi, intanto ero diventato direttore didattico, lui aveva partecipato alla commissione per la revisione dei programmi della scuola primaria nell'85, da cui poi seguì il piano quinquennale di formazione gestito dagli ETSAI nell'epoca e quindi il suo nome, diciamo, circolava. Alla fine degli anni 90, io ero già ispettore, dal 91, fu istituita una commissione di studio, eravamo durante, diciamo, il bicastero Berlinguer, su autonomia, competenze e curricoli, e di cui faceva parte anche Alberto ed è stata la prima, diciamo, occasione in cui l'ho conosciuto direttamente personalmente, ma la, diciamo, la sua fama era già molto ben nota. In seguito, negli anni 2000, all'inizio degli anni 2000, abbiamo partecipato all'elaborazione, diciamo, della riforma Berlinguer, che poi, come sapete, non andò in porto, ma erano stati istituiti vari gruppi di studio e di lavoro. Io, per esempio, coordinavo il gruppo della scuola dell'infanzia, con il moderatore Italo Fiorino, un altro collega, e Alberto coordinava il gruppo della scuola primaria e il coordinatore era Carlo Petracca. E poi il tutto, diciamo, confluì alle sintese dei vari gruppi all'interno del documento generale, che doveva servire poi per la riforma, appunto, dei cicli Berlinguer, cosa che, peraltro, successe, perché la legge 30, se non sbaglio, fu emanata, ma fu subito poi bloccata successivamente, se non sbaglio, dalla Moratti, ma non c'è stato poi un cambio, diciamo, di maggioranza. Ecco, ma sentiamo anche che cosa ha da raccontarci un altro ispettore, anche lui in pensione, come Mario Maviglia, e che però ha avuto molto a che fare con lui, è Raffaele Iosa. Ecco, e in particolare, chiediamo a Raffaele Iosa, qual è il tuo ultimo ricordo di Alberto Alberti? È un ricordo, tutto sommato, abbastanza recente. Sì, è un ricordo recente, triste, e verso il quale ho molti sensi di colpa. Una settimana prima di Natale, Alberto mi ha mandato il suo ultimo libro, è questo. Fili di seta, è un libriccino, e me l'ha mandato con una dedica che mi ha sconvolto. Questo libro non vuole costringerti a leggere cose che magari non ti interessano o non sono di tuo gusto. Questo è lo tipico stile di Alberto, non voglio pestare i piedi a nessuno, ma finisce così. È solo il segno che io esisto e ti voglio bene, Alberto Alberti. Chiedo scusa, ma segna anche il legame privato che io avevo con lui, personale. Mi arriva questo libro, era molti anni che non lo sentivo, tra varie cose, poi dirò quali, e mi ha toccato tantissimo. È un libro che racconta cose molto particolari, pezzi della sua storia che fanno capire meglio chi è Alberto. La sua storia in Sicilia da giovane, come è arrivato a fare all'insegnante, ma anche la sua straordinaria storia d'amore con la moglie Margherita. Ecco, questo libretto, appunto, è un libretto in cui si parla della Sicilia. Lui era siciliano, era nato in provincia di Messina, l'abbiamo già detto, nel 1933. Ma la sua formazione qual è stata? Lui in Sicilia ha studiato da maestro? No, no, anzi, proprio nel libro lo racconta. Dice di essere diventato maestro per sbaglio. Pochi sanno. Alberto si è laureato in legge, nella Sicilia del dopoguerra. Ha vissuto la guerra anche direttamente, aveva anche ricordi dell'invasione degli americani. Si iscrive a legge, ma contemporaneamente, dopo aver fatto il liceo classico, ha fatto anche il diploma magistrale. Fa vari concorsi, aveva voglia di autonomia, di avere un lavoro, e vince il concorso come maestro. E fa cinque o sei anni di maestro elementare nelle campagne siciliane, in pluriclassi, paese di campagna. E gli viene addosso il mondo. Si innamora della pedagogia, capisce che è una roba importantissima la scuola, soprattutto elementare. Si iscrive al Partito Comunista. Al Partito Comunista di quell'epoca, aggiungo, a un partito comunista che infatti di scuola pensava al liceo, pensava che la scuola primaria, elementare, eccetera, era roba di donne o di bambini, non era il cuore, era ancora a concetto marchesi. E manda degli articoli a riforma della scuola, che era questa rivista del partito, prodotta dagli editori riuniti per quanto riguarda l'educazione, e la cosa colpisce molto. Colpisce molto. È lì che lui scopre intanto, dai commenti che arrivano da Roma molto positivi, all'effetto che ha di avere dentro di sé cose da dire, cose da fare importanti, e gli viene riconosciuto appunto da Roma. per cui questa cosa lo fa decidere, quello che lui vorrà fare nella vita, il maestro comincia a studiare come un passo. Lo racconta proprio così, da maestro ancora la pedagogia. Vi ricordo che Alberto Alberti è per me quello che in Italia ha portato Brunner, l'ha portato lui davvero, ed è quello che ha sposato Dewey e Brunner insieme come pensiero. La storia, chiamiamolo come comunista, di Alberto è una storia molto particolare, anche su questo. Il fatto di essere stato uno dei più grandi sollecitatori della lettura di Brunner e di Dewey, vi dà l'idea di un'idea di democrazia, di partecipazione, un modello cioè orizzontale, ma anche di sviluppo dei diritti assolutamente originale, che faceva parte di quell'epoca di un pensiero, insomma, mica tanto presente ancora, nella scuola. Ecco perché è stato anche uno dei maggiori alimentatori della riforma della scuola media, che lui avrebbe voluto diversa, ma insomma c'era dentro. Insomma, negli anni Sessanta arriva a Roma e da lì comincia il suo percorso insieme culturale e pedagogico, da direttore didattico e poi da ispettore e politico. Sempre con questo spirito molto profondo e con questa riservatezza, ma anche con il coraggio e la lucidità di avere un'idea di scuola. Io posso dire che se nella sinistra la scuola elementare è diventata nel tempo un tema da condividere, il merito è assolutamente suo, lo posso collegare a Bruno Ciari, era un'epoca nella quale i bambini erano più o meno territorio di Gianni Rodari, per citare un altro comunque grande, che voi sapete non era sulla scuola, ma era sulla bambinità, che veniva collegato. Ed è stato quindi un personaggio di legame, di contatto, di relazioni, di approfondimento di grandissimo valore. Io me lo ricordo ancora la prima volta che l'ho incontrato a metà anni Ottanta, eravamo in programma scuola elementare, alla CGL, e me ne ricordo come se fossi stato il campagnolo che arriva e vede un mito. È stato per la mia generazione Alberto un mito. Alcuni suoi libri erano la nostra guida di pensiero e di lavoro, aveva contatto con tutti, con tutti. È uno dei meriti appunto di Alberto che anche la sinistra ha riscoperto i bambini, o almeno la scuola elementare, devo dire. Questo è il merito che gli do ad Alberto. Ed è entrato quindi in tutti quei percorsi di riforma che poi negli anni Ottanta hanno profondamente cambiato la scuola elementare, non sempre in bene, non tutto è stato perfetto, ma per esempio sull'alimentazione del tempo pieno come modello non di orario, ma di qualità educativa della scuola in un modo molto intenso. E devo dire che in tutto il percorso degli anni Ottanta della scuola elementare, della riforma dei programmi dell'Ottantacinque e la legge 148, lui c'era e come. È stato in sostanza l'autore dell'articolo 5 della 148 che ha salvato il tempo pieno. Io gli ero vicino e lavoravo anch'io con lui un po' tra sindacato e partito e altro e ricordo molto bene qual era il suo spirito e qual era la sua idea. Era una persona stimata da tutti. Senti, Raffaele, abbiamo un po' notato tutti quanti che però il primo marzo quando Alberto Alberti è mancato, è morto, c'è stata una piccola notizia su Facebook pubblicata da non ricordo più chi, dopodiché non ci sono state molte notizie su questo evento. Abbiamo dato un po' la spiegazione al fatto che forse lui era anche molto una persona riservata, quindi non ci sono molte notizie in rete su di lui. Tu che lo hai conosciuto meglio, secondo te perché questo? Dunque, ci sono due fatti. Lui era uomo delle riforme, uomo degli anni Ottanta, diciamo nel suo momento di Massimo. Quando poi è andato in pensione, il suo percorso privato, personale, è stato diverso da molti di noi. Ha avuto una storia familiare complicata, la moglie si è ammalata di quelle malattie degenerative e drammatiche, se qualcuno ha la fortuna di leggere questo libro troverà il racconto di questa sua storia d'amore e di come finisce. Per cui lui si è un po' come appartato da quello che era il dibattito pubblico continuo, ha partato a modo suo. Lui era così dedicato a questa storia personale da scomparire in un qualche modo dai siti, non ha mai scritto in internet in vita sua. E questo ci dà anche l'idea però come si fa presto a dimenticare. Per cui le persone che ho visto che lo hanno citato sono tutte persone della mia generazione, nati negli anni 50 in su, cioè di chi ha avuto la fortuna di conoscerlo personalmente. Eppure c'è un ultimo libro che ha scritto nel 21 che ti suggerisco di favorire che venga letto che Dario Missaglia ha ripreso in un articolo di Proteo dove si cita proprio un pezzo di questo libro che voglio dirvi per dire qual è la profondità del pensiero di Alberto scritto appunto in questo e la moglie è morta due anni fa e lui dopo ha cercato di recuperare appunto un po' di dimensione. Quel bigliettino che ho letto prima aveva questo significato io ci sono, la voglia ancora di vivere, no? Dove parla del rapporto tra dispersione e selezione? Un articolo di una saggezza unica dicendo la dispersione è una parola falsa, è un imbroglio, scarica sul ragazzo il problema dell'abbandono della scuola mentre il problema è la selezione. il fatto che la scuola non riesce forse non ne ha perfino voglia un po' le storie del merito, no? Di una lucidità ancora e di una franchezza estrema. Comunque Alberto non era un uomo da piazza, non era un uomo da grido, non apparteneva al suo spirito quello di fare battute o altro, era assolutamente una persona che ascoltava in silenzio. Bene, ringraziamo anche Raffaele Iosa per questo anche commovente, direi, racconto che lui ci ha fatto, ringraziamo Cinzia Mion e ringraziamo Mario Maviglia per quello che anche loro hanno detto. Ricordiamo appunto Alberto Alberti che è stato maestro di scuola elementare, è stato direttore didattico, ispettore tecnico, ha scritto una quantità incredibile di testi di pedagogia ma anche ultimamente dei racconti, dei volumetti, dei piccoli romanzi insomma, ecco di cui ci ha parlato ora anche Raffaele Iosa. Bene, è mancato il primo marzo del 2023, quindi sicuramente una perdita grande per il mondo della scuola italiana perché lui ha detto e fatto molto per la scuola, abbiamo sentito ora Raffaele Iosa soprattutto per la scuola elementare come all'epoca si chiamava ancora. Grazie ancora a tutti. Grazie.